E' il profumo della biancheria appena lavata? E' quello dei tortellini in brato d'invello, col freddino. E' la mela grattata? La spremuta. Ma te ti controlla la notte per vedere se ti sei scoperto? E' certo. Attento, lo mette asciugamano sul termosifone prima di vantare la nuova. Sì, è rispettato. A me mi mette pure un cioccolatino sul comodino, ma tutte le sere. E poi senti, guarda sta camicia. Com'è? E' perfetta. Non ti crede che un tintoriata la fanno così? No, lo so, lo so. E allora andò cazzo a voi a niente? E' stato un momento di debolezza. E superficialità. Ma in seguite dei modelli che non ci appartengono. Bravo, non ci appartengono. Non ci. Grazie. Veramente, grazie. E sai cosa? E se poi arriva una ragazza? E se arriva l'amore? Lo sai cos'è l'amore? E' solo un castigo. Ci punisce per non essere rimasti a casa con mamma e papà. Bella questa cosa che hai detto. Stasera gliela dico. A chi? A mamma. Oh, bravo.